Sooo... Salve Zoth, voglio giocare con voi. Scegliete, vivere o morire. Fate la vostra scelta. Salve, vuoi giocare con me? Che è? Che è? Sono So, l'enigmista. G-Mortadino. Tanto bene. Gli esseri umani non sanno godersi le proprie fortune. Vero. È per questo che ho deciso di trasformarmi in... l'enigmista. Santa? Salve signora! Santa? Sono Jigsaw. Non è satana, è uguale. Sì, mi dà una mano cortesemente a terminare la settimana enigmistica. Che non riesco? Allora, questo è facile. Sette verticale. È marrone. Inizia con la S e finisce con la O. Io l'avrei già capito, eh. Dai, è facile signora, però non mi viene in mente. C'è scritto anche che assomiglia tantissimo alla maggior parte dei politici italiani. Signora? Sta ascoltando Cattelanna? Sento del fritto. Pronto? Otto orizzontale. Signora, mi dì una mano. Cosa? Otto orizzontale. Inizia con la C, finisce con la I. Eh, e che cosa le serve, scusi? La risposta. Allora, inizia... No, non ce n'ho la risposta. Aspetti, ascolti, c'è anche l'aiuto. Penzolano sotto la Wallera. Eh, le palle. Eh no, con la C inizia però. Come si può chiamare? Eh, non lo so come si può chiamare, ma... Aspetti, passo la seconda domanda, velocissima. Quattro verticale è anche un attrezzo dei falegnami, oltre che una pratica onalista. Inizia con la S e finisce con la A. Dai. La sega? La sega! Brava! Pronto? Si capiva dalla voce che era una pratica. Porco, la figlia, la tua sorella. Brutto figlio di p***a. No! Era lì! Allora, qualcuno chiede giustamente una foto della Capostagno, perché giustamente qualcuno dice No. Vuole testare. No, noi gliel'abbiamo fatta, ma essendo talmente bassa, gli viene solo la parte superiore del cranio.